Ah, mi fischia l'orecchio tutto il giorno, un dolore incredibile, capiamo perché, come si risolve e a che cosa stare attenti. Intanto parliamo di quello che è l'acufene o il tinnitus, cioè è un problema molto persistente, può arrivare ad essere permanente, vi può durare mesi, se diventa cronico rischiate di perdere una frequenza, ma soprattutto di avere un fischio che vi rimane nell'orecchio. Quindi non è un gioco, stateci molto attenti. E come si fa? Prima di tutto, volume della cuffia, non esagerate mai, oltre un volume che sia decente. Apro e chiudo parentesi, per i più simpatici, che gli piace oliare la serata con un po' di bevande, sappiate che quando le bevande sono tante, si tende ad alzare il volume ancora di più. Quindi in campana, perché il giorno dopo la pagherete molto cara. Cercate di scegliere un volume e rimanere lì, non lo alzate più, se no ci rimetterete le orecchie. L'altro piccolo trucco è questo, non è una pubblicità, non è neanche un confetto, ma sono i tappi. Ce ne sono di mille marche e non vi dirò neanche questa, perché non è una pubblicità, ma sono dei microtappini, ve li faccio vedere, non so se si vedono. Vedete, sono bucati, che in realtà si mettono nell'orecchio, penso che sono anche carini da vedere, e hanno un attenuatore interno. Sono specifici anche per i DJ, quindi non sono quelli da chitarrista, che ci sono gli air plug dove dentro c'è la musica, ma servono per attenuare. In realtà più li mettete dentro, più attenuano, ma li potete anche solo poggiare. Io li uso anche ai festival, quando vado nelle serate e l'impianto non è bellissimo, suona troppo troppo alto, li metto, mi godo la serata, il giorno dopo, tac, non mi fischiano più le orecchie. In campana le orecchie sono il vostro strumento più importante, proteggetele, ciao!